Gli asfaltatori, gli asfaltatori sono pronti per la rassegna, eccoli qua. Ve li voglio anche presentare perché loro, assieme a tutti i militanti, che ringrazio uno ad uno i militanti del Veneto, i sostenitori, tutti i simpatizzanti e anche tutti quelli delle altre liste che ci hanno votato, che ringraziamo qui con un grande applauso, però dico grazie soprattutto ai miei candidati. Dall'estrema sinistra, ma non è dell'estrema sinistra, Roberto Marcato, eccolo qua. Montagnoli di Verona, Calzavara di Jesolo, Ciambetti di Vicenza, Bottaccin di Belluno, Gidoni di Belluno, Boron di Padova, Finco di Vicenza, Bassansali, Micheletto di Venezia, Barbisan di Treviso, Barbisan di Venezia, Silvia Rizzotto, Treviso, Manuela Lanzarin, Vicenza, Forcolin, Venezia, Gerolimetto, Treviso, Sandonà, Padova, Possamai, Treviso, Semenzato, Venezia, Finozzi, Vicenza, Villanova, Treviso, Brescaccin, Treviso, Dulcis in fundo, Lucca Coletto, Treviso e Verona. Eccoli qua. Qui al mio fianco ho altri due consiglieri che per noi sono ancora eletti e che vergognosamente il Tribunale del Veneto ha dichiarato non eletti. Abbiamo assistito a delle avventure e delle storie in questi giorni che neanche nella Repubblica delle Banane si vedono. Siamo stati proclamati per ben due volte non riconoscendo gli errori e abbiamo avuto consiglieri che entrano ed escono dalla nostra lista. È scandaloso quello che è accaduto in Veneto qui a rappresentare questo gruppo di consiglieri che è entrato, uscito. Sono alla mia destra il sindaco di Cittadella Bepi Pan e il sindaco di Carceri Businaro. Eccoli qua. Annunciamo ai signori della Corte d'Appello che noi il ricorso lo presenteremo anche perché vogliamo conto dei 20.000 voti contestati che ci hanno tolto per lo 0,40% il 50% del consenso dei Veneti che ci ha dato. Allora, dopo i ringraziamenti voglio veramente ringraziarvi di cuore tutti, voglio ringraziare tutti perché non è stata una campagna facile. Qualcuno già carezzava l'idea di vincere contro di noi. Qualcuno si è permesso di fare la morale a noi che siamo l'unico partito che con la vicenda del Mose non c'entra nulla. Questi sono quelli che volevano andare a governare la Regione. Qualcuno si è permesso di farci la morale da ex dicendo che questa squadra è una squadra che non ha fatto nulla per cinque anni. Qualcun altro ha voluto mettere in dubbio la capacità dei miei consiglieri che io difendo uno ad uno. E penso che il merito di questa vittoria che sarà scritta nei libri di storia del Veneto io lo dedico a tutti voi perché veramente ci avete fatto sentire il vostro calore. Grazie, grazie di cuore. Mai nella Regione del Veneto si è avuto un gruppo così folto. Abbiamo dovuto anche cambiare le sale perché siamo in tanti. Però i cittadini ci dicono vi abbiamo scelto, vi abbiamo voluto fino in fondo, abbiamo sposato la vostra causa, abbiamo capito che fate le cose con serietà. Perché chi ha le palle di dire ai medici, ai sanitari dobbiamo aprire anche di notte gli ospedali, dobbiamo fare pulizia, dobbiamo puntare sulla legalità, sulla coerenza, sulla difesa del nostro Veneto. Tutti questi cittadini si meritano una risposta che è quella della buona amministrazione, che è quella di portare avanti i nostri progetti. Abbiamo quasi 200 pagine di programma depositato ma anche quella che ognuno di voi dovrà controllare per primo il mio operato e poi l'operato di ognuno di questi ragazzi e ragazze. Perché io ho detto a loro non voglio divagazioni sul tema e non voglio liberi pensatori. L'impegno ce lo siamo presi con i Veneti e con la Lega e l'impegno senza se e senza ma, cari consiglieri, va mantenuto fino in fondo. Siamo già pronti perché noi non abbiamo tempo da perdere. Io ho già un bel pacco di proposte di legge che sono quello che avevamo promesso, abbiamo promesso in campagna elettorale, che dovrà diventare legge. Perché quando diciamo che difendiamo il Veneto lo dobbiamo fare con le leggi, dobbiamo dimostrare che se crediamo nel referendum per l'autonomia e l'indipendenza il referendum deve essere fatto in maniera rispettosa di quello che abbiamo detto i Veneti. Di più libero. E lo abbiamo dimostrato, grazie, lo abbiamo dimostrato comunque nelle prime ore. Perché qualcuno voleva che il Veneto si africanizzasse e pensava che mandare gli immigrati in Veneto fosse l'unica soluzione per sconfiggere la Lega. Qualcuno da Roma non ha avuto coraggio per i 30 giorni della campagna elettorale di parlare di immigrati, di profughi, di invii in Veneto e il giorno dopo le elezioni, nonostante questo consenso plebiscitario, nonostante un Veneto su due abbia scelto la nostra amministrazione, il nostro progetto politico, la sorpresa da Roma qual è stata? L'invio di immigrati. Noi diciamo di no. Il Veneto ha già dato, il Veneto è una delle prime tre regioni in Italia assieme alla Lombardia che ha già dato ospitalità a migranti, il Veneto sa che ha una popolazione dell'11% di immigrati sul suo territorio, il Veneto sa e lo dice con il suo governatore e con la sua squadra che se sei in Veneto devi lavorare, rigare dritto, altrimenti te ne vai a casa tua. Il Veneto non accetta le scuse di un governo incapace che da tre anni e mezzo, vorrei ricordare questa maggioranza, governa l'Italia, non accetta le scuse di un governo incapace che dichiara agli italiani che la partita dell'immigrazione è un'emergenza. Non è un'emergenza se tu eri lì nel 2012 e avevi 13.000 migranti arrivati, eri lì nel 2013 e ne avevi 43.000, eri lì nel 2014 e ne hai avuti 170.000, sei lì nel 2015 e ne hai 200.000 a fine anno. Questa non è un'emergenza, hai dormito e non ti sei preoccupato del problema. E caro governo, caro governo, noi ti diciamo dal Veneto che noi veneti conosciamo la solidarietà, conosciamo l'emigrazione, abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto se non lo sapete, ma non siamo andati a riempire le galere in giro per il mondo. E' bene che tu te lo ricordi, caro governo. Noi, davanti a una persona, a un bimbo che scappa dalla morte, da una guerra, dalla fame, non diciamo di no, diciamo di sì senza se e senza ma, ma vorremmo dire al governo che non ci può chiedere di ospitare degli immigrati che noi sappiamo dai dati ufficiali che ci dà il Ministero degli Interni, solo due su tre non sono neanche profughi. Sono migranti che arrivano in Italia con il bel sistema dei barconi, senza spendere tanti soldi e senza documenti. Noi non ospitiamo questa gente, non c'entra niente con i profughi. E poi, in un Veneto che conosce la disoccupazione, che ha un ragazzo su cinque che è senza lavoro, che conosce il dramma degli over 50 che non trovano lavoro, noi diciamo che se c'è un posto di lavoro libero, prima va dato a un Veneto e poi a quelli del resto del mondo. E non possiamo non ricordare i 150 imprenditori che si sono suicidati, non nei villaggi turistici ma all'interno delle loro aziende. Vanno ricordati quegli imprenditori e va ricordato anche il governo che non fa nulla per le nostre imprese. Io chiudo, mi hanno dato poco tempo ed è giusto che siano rispettate le regole, salutando tutti i ragazzi, le ragazze, i signori e le signore che sono qui oggi. Molti giornalisti oggi ci dicono ma la Lega è cambiata. La Lega è la Lega, punto e basta. La Lega ha l'obbligo di difendere fino in fondo la sua gente, i cittadini del nord, i veneti, i lombardi, i piemontesi e così via. Però ha anche l'obbligo di dar voce alla foresta che cresce, che nessuno ascolta. Io da ministro sono andato in giro per le campagne del sud. Le mie prime missioni le ho fatte a Caserta, in Sicilia, in Calabria, in Puglia. E lì ho trovato gente che non mi diceva di assumere ancora forestali, ma mi diceva fate in modo che ci siano meno forestali. Ho trovato cittadini che mi parlavano degli sprechi. Questa foresta che cresce, che fa meno rumore di una pianta che cade. Che però noi capiamo che se non andiamo a aiutare, finirà che il conto di quel malgoverno, di quegli sprechi, lo pagheremo noi. Perché ancora oggi, cari signori, la Sicilia ha 22.000 forestali, il Veneto ne ha 400. Un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro, in giro per l'Italia 60-80 euro. Questo è il senso di quello che oggi noi vogliamo affrontare. È il senso del buon governo, del rispetto della nostra gente, del fatto che le nostre tasse non possono essere continuamente sprecate. E siccome siamo del nord, siamo abituati a rimboccarci le maniche, non a star lì a guardare quelli che ci fottono i soldi. Ditelo in giro. E dite in giro a chi non gli va bene, come ragioniamo, che il mondo è grande, lo abbiamo dimostrato in Veneto. Se uno ti rompe le palle, deve andare via. Questo è quello che dobbiamo dire a chi ci rompe le palle. Perché in Lega, in Lega, se c'è un principio che abbiamo capito tutti, è che quando vai fuori non torni più dentro. Chiaro? Io vi ringrazio. Vi chiedo di restarci ancora a fianco in questo percorso che non sarà facile. Il Veneto è il riflettore di tutta Italia, del mondo su di sé. Tutti sperano che qualcuno sbagli. Io ho bisogno di sentire il vostro calore, come l'ho sentito in questi mesi, di capire che siete duri ai banchi e che non cedete a quelli che comunque vogliono fare in modo che succeda qualcosa. E chiedo un impegno ai miei consiglieri ogni anno qui sul palco di Pontida e chi non viene sono guai. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Grazie. Andate a bordo. Popolo di Pontida, facciamo sentire ancora tutto il calore a Luca! Più forte, Luca! 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 Luca!